Oh mamma mia, cosa sta facendo quello? Oh mamma mia, cosa sta facendo? Quello è fermo Oh mamma mia, cosa sta facendo? Oh mamma mia, cosa sta facendo? Oh mamma mia, cosa sta facendo? No, no, no Oh mamma mia, cosa sta facendo? Oh mamma mia, questo Eh, questi ski lift, la particolarità è che quando si fermano ci mettono un casino a ripartire Ok Ok Oh 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 Oh